nel lontano maggio del 1935 l'allora aereo più grande del mondo il mastodontico maxim gorky stava sorvolando l'unione sovietica scortato da un piccolo aereo da caccia che aveva la funzione di risaltare le dimensioni di quel colosso dei cieli ad un tratto il caccia esegui improvvisamente un looping e finì contro il maxim facendolo precipitare al suolo quel giorno morirono ben 46 persone compreso il pilota del caccia circa 31 anni più tardi l'8 giugno del 1966 un caccia f-104 starfighter entrò in collisione con il bombardiere supersonico xb 70 che stava venendo scortato questo non era un aereo come tutti gli altri destinato a sostituire il b-52 come bombardiere intercontinentale l'xb 70 era stato progettato per fare ciò che nessun altro aeroplano aveva mai fatto cioè volare in crociera su lunghe distanze alla velocità di 3.200 km orari tre volte la velocità del suono infatti mentre solo pochissimi aerei possono raggiungere questa velocità e mantenerla per pochi istanti questo bombardiere era progettato per mantenerla durante tutto il periodo di volo sopra lo spazio aereo nemico questo richiese lo studio di nuovi materiali e forme tra cui una batteria di sei enormi turbojet installati sotto le ali l'xb 70 era uno degli aerei più estremi del mondo era tra i più lunghi potenti aveva una grandissima autonomia oltre alla capacità di volare ad altissime altitudini con sei turbojet dotati di post bruciatori capaci di generare più di 14.000 kg di spinta ciascuno era anche uno dei velivoli più rumorosi il progetto dell'xb 70 era iniziato nel lontano 1995 ma il primo prototipo fece il primo volo solo nove anni dopo il 21 settembre 1964 il secondo prototipo volò invece il 17 luglio del 1965 e durante il suo 39esimo volo per la prima volta tutti e sei motori generale electric j93 furono portati alla massima potenza e per 33 minuti il velivolo mantiene la velocità di mach 3.08 pari a circa 3.700 chilometri all'ora questi voli sperimentali erano svolti secondo i termini del contratto che l'usaf aveva stabilito con il costruttore del valkyrie cioè la north american aviation e sarebbero dovuti terminare entro il 15 giugno del 1966 dopo questa data sarebbero invece iniziati una serie di voli che rientravano in un programma congiunto di usaf e nasa l'ultimo volo sperimentale programmato dalla north american venne fissato per l'8 giugno appena una settimana prima del termine del contratto questo volo era una missione ufficiale di rifinitura e una volta in cielo si sarebbero dovuto eseguire delle prove e dei test minori che non erano ancora stati ultimati nel briefing prevolo sull'aeroporto usaf di edwards si decise di aggiungere alle prove programmate per quella giornata anche un volo supersonico il pilota dell'xb 70 era alvin white mentre il copilota era carl cross negli stati uniti come in molti altri paesi è permesso all'industria di fare ripresi in volo dei propri prodotti a patto che questa attività non interferiscano con la missione e con l'aereo la generale electric costruttrice dei motori che equipaggiavano l'xb 70 ottenne il permesso di far volare vicino al valkyrie una piccola formazione di aerei da caccia tutti con motori generale electric l'xb 70 decolò da edwards alle 7 15 del mattino e una volta raggiunta la quota prevista iniziò alle varie prove programmate effettuata anche la prova di volo supersonico venne accordato ai caccia il permesso di avvicinarsi al bombardiere la piccola formazione era composta da un f4 phantom un t38 talonom un f5 freedom fighter e da un f 104 n della nasa equipaggiata con un motore a razzo utilizzata per l'addestramento degli astronauti le riprese in volo vennero effettuate da un liar jet ovviamente motorizzato generale electric e alla fine tutte le attività fotografiche vennero portate a termine senza alcun problema le immagini realizzate furono veramente incredibili ma non vennero mai utilizzate a causa di ciò che successe appena dopo l'f 104 n posizionato in coda all xb 70 iniziò a farsi vicino al bombardiere a bordo dello star fighter c'era il capo collaudatore della nasa joe walker pilota espertissimo con circa 5000 ore di volo gran parte delle quali compiute in voli di ricerca sull'aereo razzo x 15 che era capace di volare fino a 6.500 chilometri orari nonostante la sua grande esperienza decise di avvicinarsi troppo al bombardiere sfiorandolo in diversi punti dalla parte posteriore e alla fine si spostò sotto l'ala sinistra dell'xb 70 le estremità alari del valchirie erano ripiegate verso il basso con un angolo di 30 gradi e questo generava un vortice di elevata intensità inevitabilmente questo stesso vortice risucchiò l'f 104 il caccia in un istante venne capovolto e scagliato controllare del bombardiere e successivamente distrusse quasi completamente sia il timone destro sia quello sinistro infine andò a sbattere controlla alla sinistra trasformandosi in una vera e propria palla di fuoco il caccia in fiamme iniziò a puntare verso terra mentre l'xb 70 riuscì a volare livellato ancora per diversi secondi ad un tratto però iniziò ad inclinarsi verso sinistra e presto iniziò anche a girare su se stesso mentre precipitava puntando verso terra improvvisamente un ala si staccò e a questo punto il pilota white decise di lanciarsi utilizzando la speciale capsula di salvataggio l'aero precipitò circa sei chilometri a nord della città di barstow in california con ancora a bordo il copilota del velivolo che non aveva neanche iniziato la sequenza di aiezione e che ovviamente rimase ucciso nello schianto la perdita di questo prototipo il secondo dei due costruiti un molto grave per il programma di sviluppo in quanto il primo prototipo non aveva a bordo tutta la strumentazione per i voli collaudo supersonici ma lo schianto dell'xb 70 ebbe gravi conseguenze anche sotto l'aspetto politico il deputato americano george mahon all'epoca presidente della commissione per gli acquisti pubblici disse che la perdita di un aereo su cui erano stati investiti oltre 500 milioni di dollari dei contribuenti era ingiustificabile lo avrebbe accettato se lo schianto fosse avvenuto durante un volo di collaudo non era tollerabile che un aereo costato tutti quei soldi cadesse durante un attività di pubbliche relazioni per un'azienda privata in realtà la generale electric non aveva alcuna colpa l'attività era stata regolarmente autorizzata e le sessioni di scatti fotografici erano state ultimate senza alcun tipo di problema l'unico responsabile dell'incidente era di fatto il pilota dell'f 104 dopo questo disastro le attività di fotografia aerea vennero bandite negli stati uniti per un lungo periodo di tempo e quando vennero riammesse ottenere il permesso di scattare foto in volo ad un aereo divenne molto più complicato rispetto a prima del 1966 inoltre dopo l'incidente la generale electric venne di fatto esclusa dai successivi progetti americani e fu la pratt & whitney ad ottenere il monopolio dei contratti di motorizzazione dei principali caccia statunitensi tra cui f111 f16 ed f15 questa situazione cambiò quando vennero costruiti il volo per la marina americana fa 18 le nuove versioni di f14 e altre versioni aggiornate di caccia per l'usaf il primo prototipo dell'xb 70 ultimo esemplare rimasto fece il suo ultimo volo terminando la propria attività il 4 febbraio 1969 quando atterrò alla base di dyton nell'ohio sede del museo dell'aeronautica statunitense dove ancora oggi lo si può ammirare in tutta la sua maestosità grazie